La tua parte di Skype se apri una finestra lo vedi proprio che è il video e sarà lì per 30 giorni quindi ti consiglio di scaricarlo. Ok va bene, io intanto magari faccio anche la registrazione col telefono, almeno audio in modo che così abbia la possibilità di ascoltarla. Sì sì fai un double recording così non si sa mai. Allora dai inizia una carrellata così un po' veloce delle tue domande e poi partiamo. Ok allora ti comincio da quelle un po' più importanti per me perché mi blocco quando sto per addormentarmi? Quelle che ho visto mentre ero bloccato erano spiriti inferiori? Io posso aiutarli? Ho una guida come si chiama? Sono bloccato da qualcosa qualcuno? Ho una missione in questa vita quale? Quale strada devo percorrere? Devo introdurmi in qualche modo al mondo dello spiritismo visto che io sono schifosamente razionale ed è una cosa che per me è un po' lontana dal mio modo di pensare. Quali sono le mie attitudini? Ti chiedo se ho facoltà medianiche visto quello che mi succede. Perché non riesco a meditare? Perché non riesco a portare niente a termine nella vita. Le principali sono queste. Va bene, perfetto. Ok allora guarda io mi rilasso qualche alcuni minuti, chiamo la tua parte animica di fronte a me che ci mettiamo tutti e due in protezione vedo come mi arriva quindi ti parlo del primo messaggio che ricevo appena lei mi arriva dopodiché ti dirò puoi partire con le tue domande e quindi iniziamo a navigare in questo punto invisibile. Ci vediamo di là Rino. Bene, guarda io ci sono, creo una sfera energetica di protezione tutti intorno a me affinché niente e nessuno possa interferire con me in questa sessione. Bene, ora chiamo la tua parte animica qua di fronte a me che sta arrivando. Bene, mi è certo che sia tu, ti sto toccando. Bene sì, lo sei. Crea una sfera energetica di protezione tutto intorno a te affinché niente e nessuno possa interferire con te in questa sessione. Ne stai facendo una anche tu sopra quella che ho fatto io, proprio a difesa, doppia difesa. Senti, mi sei arrivato con, sei vestito da prete, hai un vestito, una tunica lunga, non sei un frate cappuccino, sei proprio un prete di un certo livello, perché la tua veste è nera, mi trasmette una certa importanza, non che sia con delle cose particolari, ma hai un grosso crocifisso di legno e me lo stai facendo vedere in un modo particolare, hai una carica molto forte, non sei un prete comune, mi stai dicendo. Bene, e mi stai trasferendo tutta la carica emotiva in cui ti pone questo mestiere. Allora io sto chiedendo un attimo di farmi vedere, mi hai allargato con grande determinazione la visualizzazione del campo in cui tu operi. Non sei un prete comune, non fai le chiese, non fai messe, non sei collegato ad una chiesa, ma sei un prete esorcista e non sei un qualsiasi tipo di prete esorcista, hai la capacità di vedere, hai attivo al 100% il sesto senso, quello che ci dà la capacità di visualizzare le altre anime. Allora è molto forte la sensazione che mi dai e sei molto determinato. Sottofondo Rino, percepisci un collegamento all'immagine che la tua parte animica mi ha fatto vedere così imperativo? Saprei dirti, ti dico solo che mi era già stata detta questa cosa. Ah sì? Ecco, è quindi reale, perché lei continua a farmi vedere che è come se fosse rimasta su questo capitolo di vita, in tutte le vite, perché poi non è che mi hai portato in una vita, è come se tu scendessi e uscissi dal corpo e ritornassi con questo, praticamente con questa particolare missione, chiamiamola. Però adesso noi andiamo ad indagare bene con le tue domande, vediamo che cosa ci racconta, che cosa ci fa vedere e che collegamento hai con questa figura così importante che lei ci ha fatto subito visualizzare. Dimmi pure, partiamo con le tue domande. Perché mi capita spessissimo, quando sto per addormentarmi, di sentire delle presenze che in qualche modo vogliono contattarmi e a volte mi bloccano, cioè io non riesco a muovermi, non ho più il controllo del mio corpo, riesco solo a muovere le palpebre, quindi decidere se vedere o meno, quindi se aprire gli occhi o chiuderli. È l'unica cosa che io riesco a fare e alcune cose mi è capitato di vedere. Di vederle? Di vedere, sì. Non tantissime volte, però sì. Vorrei capire perché succede questo. Tu diciamo che il gesto che hai fatto appena tu sei arrivato e che hai creato una seconda sfera a protezione è proprio il fatto che tu sei seguito e raggiunto e comunque tirato, sai com'è? Se uno tirasse la tua veste, sempre parlando e immaginati con questo prete esorcista, un po' da tutti i fronti e da tutte le tipologie di entità ex umani, entità smarrite nell'universo che comprendono e ti vedono in un certo senso che tu hai la capacità di poterle aiutare, ma allo stesso modo sei tirato e quindi molto più trattenuto, quindi questi blocchi, queste chiusure che hai notturne da entità di bassa vibrazione, entità demoniache che cercano di depistare, di trattenerti e quanto meno di farti scendere a loro, ti vorrebbero a loro favore, quindi cercando fortemente di modificare la tua frequenza, la tua forma. Qui entra in atto, come tu mi dicevi, la tua forte razionalità che in un certo senso è come se ti richiudesse, rinchiudesse in una sorta di protezione, quasi a farti nascondere, a nascondere la tua parte animica, che in questa vita di Rino non è così elevata in uno stato di potere come lo era e come me lo ha fatto vedere appena siamo arrivati, la parte mentale, la tua parte razionale china sopra la tua anima, cerco di farti immaginare cerca di rinchiuderti e di soffocarti in un certo modo per renderti invisibile, lei lo fa a protezione ma invece crea un irrigidimento e una sorta di struttura non armoniosa con le energie che tu hai, il tuo potere e le energie circostanze a te, quindi crea un cortocircuito pazzesco, un cortocircuito che nel momento in cui tu sei assalito, interferito, ti blocca perché a lei non le riesce a decodificare, non riesce la tua parte razionale e quindi cerca di mandarti in uno stato di spento, nel momento in cui invece sei vigile e quindi sveglio, che cosa fa la tua parte razionale? Blocca, quindi è come se tirasse su un muro pieno di mattoni e non fa interagire la tua parte animica, non ti fa vivere e mette in cortocircuito tutte le belle vibrazioni che invece potresti avere intorno. mandandole un po' ti dico, ripeto questo cortocircuito perché a volte entri in una sorta di caos nella tua vita quotidiana, un caos che potrebbe essere un disordine, una fatica per riorganizzare un progetto, un disordine che ti circonda anche solo nella tua casa, insomma diciamo che questo è un po' tutto il quadro che la tua parte animica mi sta facendo vedere, ma ho qui anima e ho anche qui mente, sono stata chiara? altrimenti senti che ti appartengono queste informazioni? Sì, perché è la mia volontà però Mary, siccome mi sento ormai, è come se mi sentissi perso e penso, sto addirittura pensando che non ha senso vivere, in che senso? Così, cioè andare avanti in questo modo io non trovo più la motivazione per vivere perché sento che questo andare avanti è un sopravvivere, non è un vivere e questa cosa non mi piace. Io ho la sensazione, ho sempre avuto la percezione di aiutare gli altri, di poter fare tanto per aiutare gli altri e vorrei che questa cosa avvenisse, vorrei sbloccarmi in qualche modo. Guarda, questo filone diciamo, perché qui non si parla di spiritualità, cioè qui ho adesso la tua parte animica che è nella sua forma completa, quello che invece in questo corpo di Rino è stata un po' ridotta da questa forte razionalità che tu poi hai detto anche in una domanda, che cosa succede? Quindi non si parla di spiritualità, ma si parla realmente di questo argomento che è esoterismo, è un esoterismo dove c'è l'incontro di entità che sono su di bassi piani, di basse frequenze, entità anche potenti che alleggiano e vivono e condividono e interferiscono con noi in questi mondi. mondi paralleli, mondi invisibili, mondi che comunque interferiscono direttamente anche in questa dimensione. Che cosa è accaduto che ti ha fatto abbassare la guardia e deporre un po' le armi di questo percorso che tu sei venuto a compiere proprio come esorcista, cioè il tuo compito, la tua missione, dal momento in cui tu sei sceso in questa terza dimensione è stata ciclicamente sempre quella di essere, di dover liberare le anime interferite da entità demoniache, qui parliamo proprio di demoni. Che cosa è successo? A un certo punto hai fatto una lotta come se avessi in una vita, prima di quella di Rino, come se avessi voluto fossi andato sopra le tue capacità e ti vedo quasi come in una valle dove hai cercato di imprigionare e allontanare da umani che erano parassitati da queste entità un po' troppe, quindi hai dovuto fare una sorta di fuga, di nascondiglio, hai dovuto lasciare questo corpo, il corpo che avevi sempre da esorcista, l'hai dovuto lasciare in fretta e ti sei dovuto venire a nascondere in questa vita di Rino, quindi sei precipitato in questo grembo di tua madre, non mi sorprenderebbe se fossi anche nato prima e che la gravidanza di tua mamma sia stata anche un po' agitata, te lo farai dire se non lo sai e sei sceso qua, che cosa è successo? Ti sei aggrappato alla parte razionale cercando di creare una maschera a nascondere quello che è la tua dote, la tua realtà e il tuo compito, ma in realtà siccome è una scelta che tu hai fatto prima di scendere, questa parte di te sta venendo sempre più fuori, ma la tua parte mentale è come se ne avessi paura che questa anima venisse fuori, sì, è vero? Ecco, c'è questa paura di fondo che fa, è come se avesse un fulmine, questa paura fa da fulmine, sei una crepa, emette una crepa di una divisione tra mente e anima, questo nascondiglio mentale in cui tu hai cercato come di fare finta di essere, a un certo punto però inizia a pesarti questa maschera, inizia questa confusione che tu hai è creata dal fatto che questa maschera che hai non ti va bene più, senti di dover essere sincero, senti di dover far esplodere, anima sta esplodendo, e quindi c'è da mettere tutto un po' in equilibrio, perché non devi aver paura perché la tua capacità nell'aiutare le persone è troppo superficiale quello che ti fa fare come contentino la parte razionale, tu le puoi aiutare molto più nel profondo, molto più radicalmente aiutandole proprio nella parte animica, molto più di quanto immagini, di quanto fai leggermente nell'aiutare a stare bene, ma tu ti relazioni con gli amici, con i conoscenti quasi sapendolo di avere questo potere, insomma come se ogni volta che incontri qualcuno scruti dentro, non ti fermi all'esterno, è vero Rino? È vero, sì, è vero. Quindi tu ce l'hai proprio dentro del tuo, adesso noi comunque siamo qui per riorganizzare e sistemare e decidere un po' quale strada, quale sentiero, quale linea, come costruire la nuova linea temporale del futuro, perché questo caos non va più bene, questa sorta di maschera di protezione che la tua… Sento inutile, America, tanto proprio inutile. Va bene, comunque piano piano stiamo scardinando e stiamo comprendendo quello che c'è, quello che è all'interno della tua sfera universale, del tuo subinconscio, del tuo essere supremo. Andiamo avanti ancora, quindi i tuoi blocchi, abbiamo compreso bene, sono degli attacchi, sono tutte le entità che poi noi ci parleremo, piano piano mettiamo un pochino più in sesto tutti quanti. Ricevi proprio degli attacchi notturni, cioè delle entità che si aggrappano a te, ti chiedono aiuto e tu non vuoi vederle, ma se tu apri gli occhi li vedi anche ad occhi aperti. Mi è successo tre volte fino ad adesso, solo che le volte che le ho viste, una volta in pratica ho visto proprio un volto di un ragazzo che mi parlava, io vedevo muovere le labbra, ma non c'era l'audio in questo video, quindi non ho capito che cosa mi stesse dicendo. Adesso ultimamente, ormai mi sta succedendo quasi tutte le sere, quello che vorrei, allora l'impressione adesso che ho io è che non sia un demone, ma sia qualche anima errante che mi sta chiedendo in qualche modo aiuto. Io posso aiutarli meglio. Sì, li puoi aiutare, però per fare questa, tu non sei un medium, quindi non è che perché hai queste capacità, tu sei qualcosa di più, per sperimentare, per praticare questa tua capacità, molto, molto, intanto unica, credimi, perché io non l'ho mai vista e incontrata, un'anima come la tua così di potere. Non è un gioco quello che voglio dire, avresti bisogno di informarti e di perseguire e sviluppare queste capacità difendendoti, perché è come non puoi intraprendere questa capacità, questa azione, non puoi fare queste cose se non sai bene come muoverti, perché tu non hai solo la capacità, non è così semplice, incontri un'entità, apri un portale e la mandi nella sua strada, no, tu hai proprio la capacità di farla ritornare a vibrare, di modificarla, non che devi aprire un portale, che poi il portale modificherà, hai la capacità di metterli di nuovo nella forma di provenienza, di farli ritrovare se stessi, quindi è una capacità molto importante che va sviluppata, seguita con una sorta di conoscenza. E come faccio, Maria? Ci sono libri, l'esoterismo, l'esorcismo, lo so che ti fa paura perché vedo la tua parte mentale che è rigidita lì, è fredda, però fondamentalmente esorcizzare, perché chi viene da te? Non viene l'anima ex umana che ha smarrito solo la strada, ma questa anima che si è smarrita, quindi ha vibrato a basse vibrazioni, porta con sé il parassita, parassita di bassa frequenza, quindi l'aiuto che ti chiede non è solo di ritrovare la sua strada, quindi quello che farebbe un normale medium, ma è quello di ritrovare se stessi energeticamente una vibrazione elevata, allontanando o bruciando, o qualsiasi forma possa essere, questa entità che lo possiede. Proprio anime possedute, che anime potrebbero essere? Anime che hanno lasciato questa vita con incidenti mortali, queste morti che non erano attese, morti sofferenti, morti uccisi, queste entità ex umani, anime ex umani, che hanno sofferto nel lasciare il corpo, lasciando il corpo vibravano in basse vibrazioni, e chi è che sta lì di fuori a pastorare, se vogliamo dire in attesa, se ne approfitta, esatto, quindi diciamo che sei a un livello già superiore, per poter comprendere, sai mi sembra poi, se tu vai in una biblioteca, ecco questi sono libri, poi ti affascinano i libri, perché io vedo che sei attratto da questo antico, libro antico, quindi se tu vai in una biblioteca, e inizi alla ricerca, a ricercare quello che sono i riti di esorcismo, ti difenderai e compierai questi gesti nel letto, poi sceglierai tu la tua metodologia, ma sarai in protezione, altrimenti lasciando questo corpo di rino, ti toccherà di nuovo fuggire, e poi ritornare in incognita, e rifare come in un loop, quello che stai facendo adesso, una vita dietro a un'altra vita, senza comprendere quello che sei venuto a fare, invece tu la tua parte animica, è guerriera, una parte animica di potere, nessuno ti ha obbligato a scendere, sei sceso tu con questo compito, e lo hai sempre portato a termine, meno che in questa vita, dove ti sei nascosto all'inizio, non mi sorprenderebbe che fossi stato un ragazzino timido nella tua infanzia, non timido perché non ti relazionavi con i tuoi amici, ma introverso, ci hai chiuso in te stesso, senza una grossa comunicabilità, come eri quando eri ragazzino? Sono sempre stato un ragazzino molto sveglio, non mi fermavo mai, sempre molto attivo. Ecco, vedi, quindi godevi di questa nuova forma, no, non è l'ora nella visione che ho visto io, che ti vedo introverso, è la tua parte animica, che è stata sempre un pochino nascosta, e con questo esoterismo, con questo misticismo, che relazioni hai? All'età di 18 anni, quando sono tornato dal servizio militare, siccome sono cresciuto in parrocchia, i frati dominicani che io frequentavo, mi chiesero di lavorare con loro, e ho lavorato per loro quattro anni, e mi è successo in questi quattro anni, di incontrare persone che erano indemoniate. Le hai percepite subito? Diciamo che le ho percepite, e la cosa mi faceva paura, ma mi affascinava, e una volta in particolare, ho cercato di aiutare un ragazzo, del quale veramente aveva una gran pena, per come stava, e sono convinto, di aver avuto un colloquio, con il demone che lo possedeva. Con l'entità che lo possedeva, sì. Perché mi chiese se me lo potevo prendere io, e alla mia risposta di no, che potevo aiutarlo a liberarsene, ma non potevo prenderlo io, la sua seconda frase è stata, io mi prendo i tuoi peccati, che per me è stato venditi l'anima. Era questo il messaggio che io ho recepito. Però è sempre stato, come dire, perché mi è successo anche da giovane questa cosa, che mi bloccavo, proprio nel momento in cui stai per cadere nel sonno. Sono ancora sveglio, ma è proprio quel momento in cui stai per cadere, nello stato di sonno, e in quel momento lì che accadono sempre questi blocchi. Sì, perché c'è proprio un seguito, dietro di te, di queste entità. Come ti ripeto, non ce ne sono tante, c'è un'unicità nella tua particolare forma, nella tua particolare dote, che attira chi ha bisogno di te. Andranno via questi blocchi, potremmo sicuramente, queste paralisi, perché sei proprio fermo lì nel letto, potremmo lavorarci adesso, facendo visualizzare la tua parte animica, che cosa accade tutto intorno a te, è quantomeno una comunicazione a chi potrai aiutare, chi si avvicina, che una comunicazione del fatto che tu ti stai allenando, non sei ancora pronto, quindi allontanandoli nel dare un rivederci, rivederci nel momento in cui tu sarai pronto a fare questo, ti metterai in una condizione di accettazione e di accoglienza, quale invece adesso la tua parte razionale, non accoglie niente a nessuno, quindi si mette in un stato di paralisi, di chiusura totale, come se fossi stecchito, perché ti vedo proprio una rigidità molto accentuata. Va bene, andiamo avanti ancora con le tue domande, poi vediamo alla fine di sistemare, come dicevamo prima, la tua situazione. A proposito di questa situazione comunque, io ho la sensazione che in qualche modo ci sia qualcuno o qualcosa che proprio tende a tenermi così, nel senso che fa in modo e si occupa che io non progredisca. Certo. E ho proprio la sensazione, per esempio, frequentato per un po' un ragazzo che credo che non sia venuto a caso, che in qualche modo non so perché, ma mi viene il pensiero che lui c'entri anche qualcosa o che contribuisca, non lui direttamente, ma tramite lui qualcosa o qualcuno. Tu riesci a vedere se questo ragazzo c'entra qualcosa con i miei blocchi? Guarda, tu hai con me due entità oscure, io sono schietta con te, non ti nascondo nulla, che sono demoni, che cercano di non farti slanciare su questa dote, insomma emancipare su questa tua capacità, quindi ti trattengono, ti trattengono facendo che cosa? Cercando di crearti delle atmosfere intorno a te, un po' di poca fortuna, pilotano sì questo ragazzo, questo ragazzo è un ragazzo che fondamentalmente ha un atteggiamento molto rigido, molto autoritario, ma e quindi cerca di dominare, però nel suo interno è molto fragile, quindi loro hanno potuto come muoverlo, e lo stanno muovendo come una marionetta, a creare un dominio su di te, ecco, è una cosa che è un po' sconcertante, cercano di dominarti, cercano di trattenerti, solleticando le tue nature più brutte, quindi la rabbia, il nervosismo, l'ansia, cioè è come se ti stessero proprio lì a tirare fuori il peggio di te, che invece tu non sei così, senti che arrivano informazioni reali? Sì, e poi io questo ragazzo ormai sono anni che non lo vedo, però non so perché, ho la sensazione che in qualche modo, come se ci fosse ancora un filo che ci lega. Guarda, questo ragazzo ha un'anima benevola, se vogliamo dire, interferito però da questi due demoni, quindi l'anima, la sua anima interna che è benevola e positiva, è legata a te da un filo conduttore di comprensione, di empatia fra di voi, ma purtroppo posseduto da questi, entità demoniache, lui si rivela differente da quello che è, quindi sì, c'è questo filo all'interno conduttore, che è come se non vi foste allontanati mai, però purtroppo nel momento in cui vi avvicinate, quindi o vi risentite, ritornano i dissidi, infastiditi, ma noi adesso non possiamo eliminarli, li mandiamo proprio via, queste entità demoniache che ti danno il tormento, oso dire questa parola perché sono veramente un tormento per te. Ma che si sono avvicinati a me da quando ho conosciuto questo ragazzo? No, no, loro sono con te sempre, perché in un certo modo cercano di attaccare chiunque, come se mettessero un po' lo zampino in tutto quello che ti si avvicina, gli amici, le compagnie, non solo lui, ecco, non solo lui, lui però in particolar modo è un pochino più fragile, hanno attecchito un pochino di più su di lui, ma noi possiamo allontanarle anche da lui in questo momento, è come se ti rimassero conto, fanno sì che tutto ti venga contro. Penso che l'ultima volta che l'ho sentito, scusami se ti interrompo, l'ultima volta che l'ho sentito, io ho sempre cercato, credimi Mary, solo di aiutarlo, non ho mai fatto niente che potesse fargli del male, non ho mai avuto intenzione di fargli del male, anzi ho cercato di aiutarlo. L'ultima volta che l'ho sentito, e ti parlo di mesi fa, tramite messaggi, mi ha detto che io gli ho fatto del male, che lui non ha nessuna intenzione di vedermi, perché io sono un'anima brutta, gli ho fatto del male. Certo, condizionato, condizionato da queste possessioni, immaginati proprio due anime demoniache che cercano di interferire, di mandare un po' tutto controcorrente, ti dico, non solo con lui, ma noi adesso li mandiamo proprio via, ti ripeto, ma un po' con tutto quello che ti circonda intorno. Mi riallaccio con l'operato che fanno loro, al tuo dire, tutto quello che inizio, non finisco mai, hanno il potere di abbassare la tua forza e di diminuire il tuo entusiasmo, la tua capacità e desiderio, interferiscono, di continuare, di portare a termine, di essere propositivo, ti abbattono e in un certo senso stai andando avanti a difenderti solo con la mente razionale, e la mente razionale non è più capace ed è in condizioni di reggere questi scontri così ripetuti e così ormai da lungo tempo. Io non riesco neanche a meditare, io cerco di meditare, ma non ci riesco. È troppo stanca la tua parte razionale, perché ha compreso che non riuscirà mai a chiudere e a nascondere o diciamo a proteggere questa tua parte animica che comunque vuole elevarsi e vuole di nuovo venire fuori e smascherarsi e quindi lei è un po' in tilt, ecco, è un po' sotto, è scarica la tua parte mentale, molto scarica e tra l'altro irrigidita dai forti attacchi che queste due entità demoniaca giornalmente insomma fanno. L'incidente grave che ho avuto sette anni fa, ormai forse qualcosa in più, era in qualche modo scritto nel destino, nel senso che era qualcosa che doveva accadermi? Perché era non era una cosa decisa da te, era loro come ti dicevo tu hai una grande capacità in questa hai una grande energia per fare queste cose, che cosa succede? Sei attaccato continuamente dal male, perché? Che cosa vogliono da te? Non solo che tu dia a loro del cibo energetico qual è la tua fonte universale, ma trasformarti cosa vogliono fare loro? Vogliono portarti alla loro parte perché saresti un grande candidato non ti avranno mai ecco non ti avranno mai hanno tentato con questo incidente in un certo senso in un momento di oblio di momento di smarrimento di poterti afferrare e condurre e portarti via sarebbero riusciti se tu magari avessi ceduto quindi non ritornavi nel corpo di Rino e loro ti portavano via cioè non sono favole quelle che a volte visualizziamo anche nei film ci raccontano e ci fanno vedere io le sto visualizzando queste energie queste ombre loro sono come ombre ma si materializzano in tutti i contesti in tutti i momenti in tutte le dimozioni in quel momento loro erano al tuo altare a cercare di portarti con loro non ci sono riuscite come ne sei venuto fuori fisicamente che è un incidente mortale mi è sembrato che tu fossi veramente un po' di là più verso la morte che verso il ritorno ho avuto un incidente stradale ho rotto le gambe le braccia c'è stato anche una distorsione C1 C2 che ho rischiato per qualche settimana di rimanere sulla sede della rotella ci ho messo 4 anni e 13 interventi per riuscire a venermi fuori quindi è stata lunga e anche questa cosa mi ha un po' sfibrato sì sì assolutamente in qualche modo però mi ha dato la possibilità di non impegnarmi più tanto con il lavoro che facevo perché mi assorbiva quasi tutta la giornata e tutte le mie forze erano impegnate nel lavoro che facevo volentieri perché poi comunque è un lavoro che mi piace però io ho sempre sentito in qualche modo che non era la mia strada quella che stavo percorrendo e in qualche modo credo che questo incidente mi abbia anche un po' permesso anche se non sono riuscito ancora a cambiare ma il fatto di essere riuscito a non essere più responsabile e lavorare part time ho più tempo per me nel senso che ho più tempo da dedicare alla mia vita e a essere meno distratto dal punto di vista lavorativo certo però questa sensazione di essere veramente bloccato e completamente inutile io ne ho piena le scatole ma non ce la fai più certo guarda fondamentalmente è questo distacco dal condizionamento del lavoro quindi in un certo sostanza da questo sentirsi come in un progetto come in una scatola una routine condizionante ti ha fatto bene questo allentamento perché ha dato modo alla tua anima di iniziare ad esplodere espandersi dentro di te adesso c'è solamente una cosa che ti stanca ti crea caos la forza della tua parte razionale che è come se non volesse cedere a questo percorso a questo cammino quindi intanto noi le mettiamo in comunicazione questa sessione in cui loro si sono visti tramite me che sto comunicando è tramite te che hai con me messo la lettura che io ho perché tu hai avuto l'apertura di farmi leggere quello che hai da dirmi quindi in questo momento loro si stanno comunicando stanno parlando li hai messi proprio l'uno di fronte all'altro e che cosa è accaduto che cosa sta accadendo che la tua parte razionale prende consapevolezza del danno che sta creando in Rino in questa vita di Rino con la sua rigidità con i suoi sforzi per andare a rigidirsi e a contrarsi e a remarti contro anche lei un po' come fanno queste entità demoniache quindi cerchiamo di fare pace alla parte razionale e alla parte animica che è la tua meravigliosa anima in sostanza la tua parte animica nascendo ha chiesto alla tua parte mentale di essere così rigida per nascondersi e cercare di non essere in questa vita di Rino quello che invece è stato sempre come se si voleva prendere un po' di riposo ma la tua natura in un certo senso è comunque esplosa e quindi si stanno risintonizzandosi facendosi che la tua parte animica comprenda il desiderio di anima di espandersi di prendere il percorso di riappropriarsi del suo potere e oltre al potere il desiderio di mettersi in questa vita nell'aiutare gli altri visibili e invisibili perché tu non avrai a che fare mettendoti in questo percorso solo con le entità invisibili che ti chiedono aiuto ma avrai a che fare e quindi lì è un percorso di muoverti ma muoverti cioè muoverti nell'Italia quindi di girare a portare rimedio e aiuto a proprio gli umani gli umani che stanno vivendo questa particolare situazione di possessione è una cosa da prendere sul serio quello che la tua parte animica mi sta trasmettendo perché ne hai le capacità ma è una cosa che si svilupperà non da qui in cinque mesi cioè un percorso che ti farà essere pronto da qui a un po' di anni perché la preparazione per essere questa sorta io ti dico così perché non ne conosco un altro termine più leggero esorcista sarà il tuo percorso il tuo compito cioè riprendi in possesso in questa vita di Rino il compito per cui sei sceso da sempre perché tu non hai un altro vestito non hai un'altra vita cioè continuo a vederti sotto forma di prete e guarda caso anche qui mi hai detto che a un certo punto seguivi la chiesa quindi è la tua strada ecco Mary io non so perché ho la sensazione di non avere molti anni ancora a disposizione beh perché non avevi non hai un corpo in poca salute diciamo che avevi la mente tartassata e poi comunque molto stanca nel concetto di essere richiesto nel passaggio dalla parte di là non è a caso questo lasciarsi andare cioè il desiderio di uscire dal corpo di propria volontà per intraprendere un altro viaggio di reincarnazione un altro viaggio così darebbe man forte a questa entità demoniaca di passare dalla trasponda quindi non hai una vita breve caro Rino perché io ti vedo proprio che compierai questi gesti e questo percorso è quasi come se fossi il primo perché tu sarai un primo al di fuori di quello che è la chiesa e sarai uno degli ultimi perché ci saranno delle scuole che tu hai a che fare con i ragazzi quindi io vedo che insegnerai come in un apprendistato quello che tu la tua capacità le tue doti le trapasserai ai ragazzi perché la nuova generazione che tu hai le nuove generazioni che tu incontrerai quindi i tuoi 60 anni i tuoi anni più in là saranno più capaci di quelli che invece sono chiusi di adesso ecco come noi avrai a che fare con i ragazzi più capaci di questa particolare visione di questo sesto senso come lo hai tu quindi ti sarà facile trapassare il tuo mestiere non solo a uno perché non sarai non saranno un'enericità come lo sei tu adesso sarà un greggio un bel gruppo di ragazzi ma poi che cosa accade che negli anni da qui a non tanto in là nei prossimi dieci anni sembra proprio che questi mondi si fondano insieme anche di più di come invisibilmente siano fusi ora come se venissero un po' a galla queste due dimensioni in vista anche di più e quindi ci saranno più attacchi ci saranno più persone che non si sa perché compiono dei gesti che si autolesionano autolesionano insomma aree a che fare le mandiamo via queste due entità come dicevi tu adesso guarda tu hai proprio il potere stai prendendo proprio questo crucifisso di legno massiccio e di un albero particolare che ha un potere di espandere di allargare la tua forza il tuo potere non solo stai allontanandoli rimpicolendo la loro energia quindi riducendo il loro potere ma in un certo senso li fai vibrare a una vibrazione che non colpisci solo loro ma colpisci anche tutti i sottoposti che sarebbero stati mandati al posto loro quindi apri un portale dimensionale dove verranno trasmutati modificati ricombinati energeticamente e si disperderanno nell'eterico nell'universo stai riempendo questo portale dimensionale non solo di queste due figure ma ti dicevo di tutti quelli che a titolo di loro poi sarebbero comparsi quindi nel passato nel presente e nel futuro stai eliminando queste entità tutti dentro il portale sempre con questo crocifisso è una croce non ha un'ideologia legata alla religione ma è una struttura di croce di un albero particolare che aumenta la tua vibrazione e la tua forza e il tuo potere quindi questa croce ha una particolare struttura importante per la tua difesa e per il tuo compito chiudi questo portale dimensionale e ora sei libero di tutte le entità di bassa frequenza che ti circolavano adosso intorno che ti stavano adosso e che cercavano di modificare la tua forma e di portarti a loro quindi adesso c'è una struttura energetica positiva ci sono sempre queste entità di ex umani che noi ora creiamo un altro portale se tu sei d'accordo dove con un grande e un buon intento le indichiamo questo portale questa strada affinché loro possano stare lì senza intercedere con la tua forma energetica affinché tu non possa prepararti e non ti senta pronto per poter aiutare senza essere danneggiato nella tua forma nella tua energia e nella tua fisicità rispettando questo contenitore che ti sei scelto in questa vita il tuo fisico bene quindi in questo momento sei ritornato con un vuoto assoluto intorno a te ma un vuoto sano un vuoto di energia pranica universale che si rista modellando intorno a te rifacendoti compattare le tue vibrazioni e il tuo equilibrio ecco per un buon equilibrio nei tuoi spazi energetici nelle tue costruzioni per emanarti una integrità di cui tu ora hai tanto bisogno ok Mary ho una guida è una guida questo momento eri così smarrito diciamo però sì ti devo dire adesso non ce l'avevi così vicino in questo momento perché avevi perso un po' il concetto di chi eri di chi volevi essere e lo avevi allontanato ne hai due di guide e ne avevi lo avevi allontanato con il concetto quasi di non permanenza sembrava quasi che i tuoi pensieri oscuri avessero preso la piega di abbandono verso gli altri quindi si erano allontanati proprio per un libero arbitrio che c'è nell'area da rispettare nell'aria per dire nell'energia nell'eterico nell'universo hai due spiriti guida che hanno la tua stessa vibrazione energetica ma non sono mai scesi sono rimasti nell'integrità energetica originale che cosa fanno cercano in un certo senso di non farti perdere è come se loro ti tenessero in riga senza farti perdere ecco il ritorno loro mi dicono come se avessero quasi l'obbligo comunque la necessità o il loro compito è di farti a casa ne hai avuto bisogno ma non troppo non ti sono mai stati così vicino alcune volte in questa malattia non tanto nell'incidente ma nel periodo tragico della ripresa ti hanno sussurrato all'orecchio come un calore come una una forza uno a destra li percepisci sai alcune volte tu sai che non ne avevi uno ma ne avevi due hanno cercato di difenderti dagli attacchi demoniaci perché hanno la capacità di proteggerti ma non potevano interagire con una decisione un pochino pazzesca della tua razionalità di lasciarti andare insomma di questa decisione in questa vita di Rino però sì quindi io posso quindi invocare il loro aiuto e cercare di averli quanto più vicino possibile sì ora che decidi di riprendere questo percorso questa strada cioè di ritornare qui in questa vita di esserci perché eri un po' perso ecco smarrito adesso loro hanno la capacità nel momento in cui tu li chiami perché ultimamente eri così smarrito che quasi non ti appoggiavi a niente non prendevi a niente non era non eri solleticato da nessun interesse se non questa grande paura che ti tratteneva lanciandoti nelle informazioni nelle curiosità che erano proprio queste l'esoterismo l'eterico l'uscita dal corpo quindi in questo momento di smarrimento loro si erano allontanati per far capire per capire che cosa ti stava accadendo non potevano mettersi contro la tua volontà ma se tu ogni volta che li chiami loro arrivano ecco tu hai il desiderio ultimamente era come se avessi smarrito ogni fede ogni pensiero eri lasciato abbandonato ecco è vero? sì assolutamente ma hanno un nome quindi io posso o posso semplicemente pensare di volerli vicino e guarda loro non hanno un nome che sia come i nostri ecco Mary Rino ma perché non si sono mai incarnati sì non si sono mai incarnati ma sono collegati telepaticamente con questa tua natura legati non tanto nella tua mente ma nel cuore nel momento in cui tu sai e senti percepisci sai percepire non si può dire con dei vocaboli percepisci il desiderio di un aiuto sai che loro arrivano mi stanno dicendo ora sono qui che puoi chiamarli come tu desideri cioè puoi nominarli tu ecco il momento in cui loro sanno sapranno come tu li chiami ma loro ecco non hanno bisogno di essere chiamati con dei nomi però li puoi nominare sì ti stanno dicendo perché mi stanno parlando che è come se ti dessero del bentornato cioè hanno piacere che tu non sia più nascosto e diciamo in incognita e poi non sei più come sottomesso dalla parte razionale che dominava un po' tutta la tua essenza e questa vita questa reincarnazione è bentornato ti dicono felici di aiutarti li avrai molto di appoggio nel sentiero se poi lo deciderai di portare avanti che farai ecco di aiutare queste persone sotto questa forma ok ti chiedo quindi quali passi devo compiere per per intraprendere questa strada nel senso in che modo praticamente effettivamente posso come dicevi tu studiare e prepararmi perché l'intenzione è quella ecco l'informazione studiare e prepararti sarà un pochino da autodidatta ma tu camminerai come su due strade perché sei molto vicino alla chiesa quindi potrai anche interrogare anche telefonicamente chi lo fa nell'ambito ecclesiastico questo tipo di mestiere l'esorcista perché c'è anche nella chiesa ma tu ti prenderai delle informazioni in autodidatta quindi andrai a prendere informazioni in queste biblioteche dove ci sono libri che non sono da libreria ma sono proprio insomma importanti libri di lettura che ti arriveranno con le informazioni che magari chiedi anche su google e poi sarà semplice entrare e avvicinarti a psicologi cioè sarà come iniziare a farti un curriculum prima dovrai farti una preparazione e poi potrai buttarti online e potrai veramente sfacciatamente proporti per quello che sei per quello che fai perché ormai è un capitolo che viene compreso non certo da tutti ma sicuramente la gente inizia a sapere che c'è questo mondo invisibile e comprendere che c'è qualcosa che non va nelle persone che vengono contaminate e interferite e non pensano più tutti a solo la medicina ma a curarsi proprio per queste vie che tu inizierai sarà semplice iniziare ti dico agganciandoti a psicologi gente ecco persone come me che stanno facendo questo lavoro di ipnosi e quindi di interazione con questi mondi invisibili online ma poi tu inizierai quasi per magia ad intraprendere questo lavoro per conto tuo vedo che ti muovi è come se vieni da prima lentamente chiamato un po' qui un po' là ti piace poi viaggiare ti toglierebbe da questa monotonia e questa chiusura che ormai è diventata pesante per te dura da troppo tempo ecco e quindi ti stimola mantenendoti in energia forte di alta vibrazione sarà semplice una volta che ti sentirai pronto lo sentirai e poi inizierai ad estendere ed espandere la tua conoscenza ti chiameranno inizierai ad essere contattato affinché risolvi dei problemi specialmente di tanti giovani perché questi giovani che ora sono come ecclissati in questi giochi trattenuti in questi scherbi sono facili prede di queste entità e quindi saranno molti genitori giovani che ti chiameranno per i loro figli sarà semplice inserirti telefonerai vedo che telefonerai a degli istituti dove sono dove ci sono delle persone considerate insomma avrai la capacità di saperti muovere una volta però che ti senti pronto perché questo lavoro ti dico devi essere pronto non tanto a fare quello che ti è semplice fare per la tua energia ma a proteggerti affinché tu non corri il rischio di di essere vulnerabile sì perché avrai entità molto forti contro e quindi scusami se insisto su questo discorso ma quindi praticamente io adesso fra un po' finiamo la sessione come comincio a che cosa cerco cerco su internet riti di esorcismo esoterismo esoterismo sì esoterismo esorcismo inizia a farti una cultura perché tu hai bisogno di togliere dentro di te ma ora la togliamo questa paura dell'inconscio questa paura dell'infinito questa paura dell'invisibile perché ne hai tutte le capacità per andarne a lottare ecco per lottare contro di esse e quindi si prenderai questa inizierai con queste ricerche inizierai a metterti a sentirti a tuo agio interessato poi in questa ricerca in questo percorso e più vai avanti più ti metti dentro e conoscerai se le cose poi energeticamente arrivano a te nel momento in cui tu in un certo senso le attrai per il tuo interesse e la tua curiosità ti chiedo visto che appunto mi succede ormai tutte le notti di sentire quello che arriva in casa c'è qualcosa in questo momento? beh guarda in casa adesso abbiamo allontanato tutte queste ex umane entità che chiedevano aiuto abbiamo allontanato quelli che c'erano oggi però fondamentalmente tu dovrai fare sì magari da qui a poco ritorneranno specialmente adesso che inizi a vibrare nella tua vibrazione luminosa quindi quasi come una preghiera serale costruirai sempre una sfera di protezione intorno a te e creerai un portale dove queste entità queste anime vadano lì come un percorso arrivano da te tu sei però costretto sotto questa cupola di protezione e quindi chi si avvicina a te troverà come essere aspirata da questo portale dimensionale che tu lascerai lì aperto solo in uscita nessuno deve entrare da quel portale poi se vuoi lo apri lo chiudi tutte le sere in modo che tutti quelli che si si avvicinano entrano in questo portale di attesa in un certo senso di altro luogo un portale che li porta in un altro luogo lontano da te non interferendoti più perché tu non sei pronto ancora non hai la capacità poi nel momento in cui invece ti senti vibrazionalmente positivo cioè tu non devi avere paura quando li senti li percepisci allora nel tuo piccolo nel momento in cui tu sei preparati sempre dentro una sfera di protezione energetica della tua stessa energia che nessuno potrà interferire ed entrare e aprirai dei portali dimensionali per farli allontanare e ripercorrere la via dell'ascesa la liberazione potrai domandare se tu senti un'entità o qualcuno potrai domandare dentro di te un discorso interno se loro si sentono possedute o sono libere se sono libere prendi e le lasci e le mandi in questi portali in questi percorsi di ricostruzione energetica finché loro ritrovino il loro cammino la loro strada per il ritorno a casa se poi invece sono posseduti se ti senti di non avere paura anche loro farai questa separazione li separi separi l'entità negativa dalla entità positiva ex umana che ti chiede aiuto un altro apri un portale dimensionale che lo fai diciamo regredire lo fai andare sfumare nell'energia universale e un altro invece è il percorso sempre di ricrescita e di rinascita devi intanto non essere impaurito non essere fermo non sarai bloccato come faccio a liberarmi da questa paura che è troppa cioè ho sempre questa paura perché è come se avessi sempre la sensazione appunto tu me l'hai confermato che in qualche modo il male mi stessi attaccato e quindi ho sempre questa sensazione di paura di fondo guarda lo stomaco certo te lo sento proprio noi adesso abbiamo come dicevo prima abbiamo instaurato la connessione di nuovo armonica quindi la connessione armonia fra mente e anima quindi abbiamo tolto le strutture le costruzioni cellulari e anche mentali dei sinapsi cerebrali di memoria che la tua parte razionale costruiva a difesa della tua parte animica perché non voleva mandarla in espansione in esplorazione ora la parte razionale ha compreso quindi ha tolto questa rigidità insieme alla sua rigidità abbiamo annullato anche questa paura questa paura che è blocco perché tu mi dicevi sento di essere bloccato quindi noi abbiamo eliminato nella struttura memonica della tua forma razionale tutte le paure e i blocchi li abbiamo proprio fatte così sparire non ci sono più perché questo perché la tua parte razionale ha potuto vedere il danno che stava costruendo nella tua vita nel tuo quotidiano quindi il caos uno smarrimento totale è un concetto di abbandono perché poi l'abbandono era proprio non pensare più di poter esserci in questa fisicità quindi lei è stata testimone di tutto quello che noi abbiamo visualizzato adesso che anima ci ha fatto vedere quindi ha allentato la presa ha eliminato la paura ha tolto tutti i blocchi e la cosa più bella che poi ha fatto è fondersi con la tua parte animica abbiamo chiamato anche la parte spirituale che la chiamiamo ora la mettiamo in sintonia in armonia con anima e mente affinché tu possa lavorare come un nucleo integro e all'unisono con la connessione razionale perché ti collega alla fisicità del quotidiano di questa vita di Rino alla spiritualità perché ti collega con il cuore il calore alla benevolenza e la positività dell'eterico del tutto diciamo esterno ed interno e alla parte animica che siano collegate tutte le informazioni della sua volontà di portare a termine il compito che è venuto a fare in queste particolari reincarnazioni in questa dimensione è tutto chiaro quello che sì assolutamente sì ti faccio un attimo un passo indietro e ti parlo ancora di Luca il ragazzo di cui ti parlavo prima bene che in pratica siccome appunto una sera una notte che era rimasto qui a dormire da me io lo lo vedevo che si agitava nel sonno che ci metto sempre a davide per addormentare lui si era addormentato e si agitava come se ci fosse qualcuno che gli stava rompendo le palle al che io istintivamente non chiedermi perché ma proprio istintivamente lo abbraccio e comincio a pregare tempo 20 secondi lui si tranquillizza io faccio per mettere la mano del braccio di nuovo dalla mia parte per tornare dalla mia parte del letto completamente bloccato di nuovo però stavolta a differenza delle altre che mi succedeva solo quando stavo per addormentarmi ero completamente vigile non ero nello stato in cui sei quasi tra veglia e sonno completamente bloccato con la stessa sensazione appunto di non poter parlare potevo solo aprire gli occhi come al solito in seguito ad una conoscenza di un amico ho contattato sono andato da una ragazza che abita al confine con la Svizzera che ha una sua metodologia per diciamo stabilire un contatto e mi disse che questo ragazzo era posseduto e che mi raccontò in pratica tutta la storia di questo ragazzo che comunque era posseduto e queste entità mi avevano attaccato tu mi confermi questa cosa sono quelle due entità demoniache che noi abbiamo mandato via insieme a tutto il seguito di loro che avevano iniziato a possedere anche Luca come ti dicevo usavano lui per arrivare a modificare e ad attaccare anche te sì ma da quello che mi diceva questa ragazza lui era posseduto da piccolo da bambino quindi non da tanto no io lo vedo lo vedo in correlazione un po' al tuo incontro me l'ha confermato anche lui però mi disse che la nonna si vede che come ti dicevo è un'anima un po' particolare un po' delicata buona ma debole probabilmente io non lo visualizzo in connessione di entità anche da piccolo però è possibile che ne sia uscito uno e ne sia entrato un altro che questo ragazzo soffra di questa particolare debolezza animica che permette lui mi raccontò che la nonna era una di quelle che fa le fatture e che quindi lavorava con il demonio con il male e che aveva offerto l'anima di Luca al demonio e quindi era una cosa che lui si portava dietro e io avevo un po' come la sensazione che Luca fosse arrivato da me inconsciamente per essere aiutato per essere aiutato ecco ma perché non l'hai aiutato tu io vedo la sua parte animica dentro di lui ma fondamentalmente appena è arrivato da te comunque è stato di nuovo attaccato quindi lui in un certo senso si sente ferito nell'avvicinarsi a te cioè lui sente nel momento in cui sei vicino a te delle vibrazioni particolari sentiva perché adesso noi li abbiamo tolti tu puoi lavorare con lui con questo affetto che ti lega questo cuore questo desiderio sempre di volere il bene per lui puoi lavorare con lui su di lui nel ripulirlo costantemente ogni sera ogni giorno che ti metti in uno stato di attenzione di meditazione affinché lui possa ripristinare la sua vibrazione originale e difendersi da solo negli attacchi che procede sì probabilmente questa diciamo mistificazione fattura che gli ha fatto la nonna ha permesso di renderlo vulnerabile cioè come un contesto un continuo permettere in continua permissione di far entrare in lui chiunque arrivi ne soffre parecchio però poverino insomma questa situazione lo mette in un forte disagio ecco sì ma guarda che io ho tentato per anni di aiutarlo ma veramente per quanto possibile quanto potevo perché poi ogni volta si rivolgeva a me con un astio e con un odio che io non riuscivo a capire nel senso che non me lo giustificavo e ogni volta poi magari mi cercava poi adesso sono veramente anni che non lo vedo più però mi è rimasta questo pensiero mi dispiace per lui nel senso che nonostante non averlo salvato tu senti di non averlo salvato esatto e diciamo che è il rimorso maggiore che ho per quanto riguarda lui perché mi dispiace tanto però non è proprio finita con questo ragazzo cioè questa amicizia non è terminata nella tua vita lo ritroverai nel momento in cui tu adesso giorno dopo giorno riacquisti la tua forza la tua autostima perché tu hai bisogno anche di fidarti di quello che fai di quello che sei ti sentirai di ricontattarlo e di in un certo senso di avere come una seconda chance per poterlo aiutare spero ti chiedo della della mia famiglia della mia mamma che che purtroppo abbiamo scoperto l'anno scorso che ha che ha l'Alzheimer e niente magari se visualizzi qualcosa su di lei guarda tua mamma ha una carica energetica molto forte perché per tenerti in grembo tu avevi una energia particolarmente forte e lei era tenace di cellula e di di parte animica purtroppo la vedo seria la vedo come un'anima un po' triste come se non fosse tutto andato dritto nella sua vita come voleva perché la vedo triste così ha un senso quello che mi fa leggere la sua parola ma guarda io credo che mia madre fondamentalmente non sia mai cresciuta e maturata lei ha perso il papà che aveva quattro anni e ogni giorno nonostante si sia riuscito a fare una famiglia e aver fatto tre figli ogni giorno ci raccontava che lei ha sofferto tanto perché gli ha morto il papà è sempre questa questa angoscia nel cioè si portava dietro comunque questa tristezza ah vedi ecco è proprio così ehm guarda legami carmici con lei non ce l'hai perché tu hai scelto questa donna perché nonostante sia triste così comunque ha una carica energetica cioè è tosta insomma una donna robusta anche animicamente ma quindi non hai legami neanche vedo con un fratello una sorella sì un fratello una sorella una sorella non vedo che è come se non ti appartenesse un pochino il legame familiare nonostante tu ehm sia stato cioè sei comunque affettuoso no? ehm ma i tuoi fratelli cioè nella tua famiglia c'è freddezza non c'è così tanto amore non c'è empatia ehm come visualizzo e quindi mh sei un po' distaccato non ci sono connessioni carmiche c'è tuo padre che però lo vedo un po' distante è come se mh sei tra tutti sei più legato a carmicamente alla conoscenza eh di tuo padre tuo padre è strano che cosa c'è di strano che è così silenzioso e così un po' bronciato eh lui è sempre stata una persona molto introversa non ci ha mai parlato diciamo che gli voglio un gran bene perché è stato in grado di trasferirmi tanti valori il rispetto in primis quindi è una gran brava persona però è sempre stato molto introverso chiuso eh non è mai riuscito a come dire a stabilire un rapporto un attimino eh un po' più caldo diciamo con tutta la famiglia no ecco sì io io vedevo i miei genitori baciarsi solo il 31 dicembre per fargli auguri del nuovo anno tanto può farti capire sì 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 quindi anche io non sono così abituato a far vedere ad esprimere l'affetto non ce l'ho di meno sì infatti ho visto che c'è un po' di freddezza nonostante tu dentro hai proprio un calore insomma sei una persona empatica e che la tua parte razionale ti costringeva veramente come una maschera ad essere un'altra persona quale invece internamente sei e senti tuo padre invece ha un legame carmico con te perché lo hai incontrato è come se eh fosse stato eh il tuo assistente in più volte sai no quando si fanno questi riti queste cose come se lui una volta lui dava una carrozza quindi era il tuo comunque assistente ma ti portava anche questa carrozza un'altra volta in un altro periodo era più vicino a te quasi come gli stavi dando anche ehm dei compiti ecco stavi insegnando questo è come se ti avessi accompagnato ehm più volte in questa vita in questa vita però che tu hai deciso di non essere quello che sei anche se guarda questa situazione di come mi dicevi che ti eri avvicinato a questa chiesa è come se avessi dovuto iniziare lì il tuo percorso ma non come prete eh ma come ehm quello che ti dicevo di fare adesso quello che è la tua il tuo destino la tua il tuo compito è come se in questa vita che tu di Rino hai deciso di non fare quel percorso che invece tuo pare ha seguito con te per tante altre esistenze e quindi fosse un po' in disparte ma sempre lì insomma è presente è in disparte ma presente sì io sento un grande cioè io voglio vabbè è normale che voglia bene a mio padre però mi sento non lo so no c'è c'è questo legame karmico sì come se proprio siete delle anime che vi conoscete ecco vi siete riconosciute probabilmente questa discesa in questa vita la scelta di lui non è a caso ecco è come costruita ok posso chiederti come sta mia nonna che non c'è più da un po' tua nonna è qui lei mi dice ecco lei è arrivata è carina molto dolce crea una sfera energetica di protezione tutto intorno lei dice che lei l'aveva sempre capito che tu eri un ragazzo speciale che avevi come se lo sapeva lei sta bene perché è andata via diciamo non felice di staccarsi da questa vita però in pace come se la sua vita che aveva condotto era sana cioè era in pace con il mondo dice lei quindi ti voleva molto bene però perché ti tocca ti tocca ti accarezza ti come se felice insomma di sentirti come ogni volta non so quando la incontravi lei aveva il piacere di 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 toccarti cioè di di avere contatto con te una espressione probabilmente di quei tempi per dirti che ti voleva bene ecco il pensiero di e fatti coraggio non so perché ti dice questo queste parole fatti coraggio perché si vede che lei ne soffre del vederti un po' smarrito così invece devi tirare fuori questo coraggio non abbatterti dice e anche lei un po' più indietro dei tuoi spiriti guida ma non ha mai smesso di di seguirti io volevo ero appunto speravo che stesse bene nel senso sì sta bene perché lei era una donna nella sua semplicità che non non aveva fatto del male a nessuno quindi quando ha lasciato il suo corpo si è sentita di aver fatto bene il suo lavoro ok adesso ti chiedo di mia zia che è la figlia di mia nonna che purtroppo poveraccia ha un'esistenza che ha sofferto tanto nella sua vita e vorrei capire se c'è un senso dietro tutta questa sofferenza o se lei è ancora in vita sì zia Rosa beh guarda lei non ha proprio senso se vogliamo dire eleganto è molto lontana la visualizzazione che ho di lei non mi è così chiara però non è come a soffrire per delle situazioni carmiche perché mi porta indietro nel tempo quello che visualizzo semplicemente una vita dove era ricca cioè ha un abito prezioso quindi non credo che aver vissuto una vita così piena di agi possa giustificare quello che lei sta passando ora sembra più che sia una propria scelta c'è un'anima consapevole di aver provato un po' tutte le particolari situazioni empatiche della vita è un'anima che ha compiuto il suo percorso è quasi come se lei mi stesse dicendo lasciami fare immaginate che ti stia dicendo questo torino lasciami fare perché questo è l'ultimo step è l'ultima reincarnazione per poter poi prendere il bagaglio di esperienza ritornare e non tornare mai più indietro non è felice di tutte le emozioni comunque buone e positivi non è torna non felice di questa esperienza del passato è come se scappasse via da questa sorta di impegno che lei si è dovuta prendere di questo capitolo di reincarnazione quindi è alla conclusione della sua esistenza non di questa esistenza terrena sì è l'ultimo step ma adesso in questo momento non è connessa molto con la parte razionale cioè le sue mente è un po' distaccata non so adesso di quale forma di depressione possa vivere però sembra molto depressa ecco sembra non collegata più animicamente cioè l'anima sta veramente aspettando che il corpo faccia il suo processo di invecchiamento per poi andare via quasi come se non ci fosse più dentro sì è un po' effettivamente mi stai descrivendo la leggo anch'io così nel senso che la sento anch'io effettivamente come mi stai dicendo tu sì quindi Mary un consiglio tuo possiamo fare ancora qualcosa che mi possa aiutare appunto a risvegliare quest'anima finalmente perché ho tanta voglia che questa strada cominci sì guarda io in questo contesto dove abbiamo creato sì Rino sento proprio che hai un forte bisogno di rinascita fondamentalmente come se in un certo senso avessi ben considerato che la parte vecchia di te sia morta quindi il Rino troppo quello che insomma seguiva il vecchio Rino non esiste più e quindi ora questa come dalle ceneri faccia la Fenice la rinascita rinasci un nuovo costruito la nuova forma che cosa c'è da fare che possiamo fare in questo momento fare un'ulteriore pulizia con la tua forza energetica togliere dal primo chakra attivando i tuoi chakra perché con l'attivazione dei tuoi chakra che tu manterai attivi con la meditazione che ora riuscirai a fare anche se non lunghissima ma per un periodo bastante con l'attivazione dei tuoi chakra tu toglierai e manterrai eliminata la paura l'ansia diciamo questa fiacca che ti avvolge da un po' di tempo la eliminerai e manterrai elevata questa vibrazione che ti farà sentire forte desideroso di reagire rinascere mantenere questo status mentale animico spirituale elevato cioè attivo operativo brillante lucido in una situazione di vera salute di espansione con il tutto con l'universo in connessione come se diventassi un'antenna in connessione con tutte le energie positive universali con i tuoi spiriti guida che ti condurranno alla costruzione di una linea temporale futura solida concreta positiva connessa non solo nella tua spiritualità perché tu riuscirai a fare sia l'uno che l'altro ma anche nella tua materia questo part time che ti mantiene connesso con la fisicità con la matrix se vogliamo dire ma nonostante tutto ti potrà permettere di percorrere questa strada nell'esoterismo nella spiritualità nella riuscita dell'espansione animica quindi attiviamo tutti i tuoi chakra partendo dalla terra attiviamo il chakra numero uno il secondo chakra il terzo chakra che è la tua pancia quindi il secondo cervello il cervello della spiritualità dell'empatia dell'emotività lo attiviamo lo facciamo vibrare ad una vibrazione idonea alla tua essenza quarto chakra che è il cuore ecco che anche lui ha bisogno di rimuoversi di ripompare di riascoltare i sentimenti altrui di aprirsi ecco e di confidare i sentimenti i tuoi sentimenti in un confronto in una comunione una condivisione con il tutto con tutti i tuoi compagni le tue amicizie le tue conoscenze la tua famiglia il quinto chakra che è la gola che a volte dove in un certo senso cercano più di tutti di entrare che è la tua il tuo quinto chakra quindi in protezione in attivazione in forza si rigenera affinché tu possa esprimere con energia e con la razionalità che ti aiuta ormai connesse tutte insieme nella comunicazione con gli altri quindi di parlare ed essere ascoltato compreso più che ascoltato perché a volte ti sentivi che mentre parlavi nessuno comprendeva quello che tu dicevi invece adesso siamo in connessione con il quinto chakra con l'universo in una vibrazione di equilibrio di armonia con il tutto con te stesso e con l'esterno il sesto chakra attiviamo che è il chakra il terzo occhio il sesto chakra la connessione con la tua percezione extrasensoriale con la tua dote con questa forte medianità con il tuo senso sesto senso perché è proprio tutto un sei e il sesto senso che è la tua dote è il tuo compito è un po' tutto e il perché sei in questa dimensione aiutare l'umanità a eliminare questo mondo scuro negativo di bassa vibrazione dai il male tu sei il bene e nella considerazione dell'attivazione del settimo chakra che ti connette con l'universo tu manterrai questo ricordo del tuo punto di origine della tua forma la connessione con i tuoi custodi con le tue anime guida e manterrai in vibrazione costante positiva questo tuo stato dell'essere integro come lo sei e come lo sei diventato con questa nuova forma io penso che con questo bel lavoro che tu comprendi e già hai aspirato all'interno di te tutto metabolizzandolo e decodificando tutti i messaggi che ti sono arrivati oggi riuscirai nel futuro a mantenere questo equilibrio con le tue meditazioni con i tuoi percorsi con le tue informazioni che riceverai in questa ricerca che ti metterai a fare ok Mary ti volevo chiedere solo curiosità il mio piccolo nipotino che mia sorella ha avuto due gemelli che a giorni fanno quattro anni quindi sono ancora cuccioli ma c'è Alessandro che ha una non lo so è come se avesse quasi il ricordo delle vite precedenti nel senso che un ragazzo è un bambino sveglissimo è di un'intelligenza che è al di sopra del normale e io ho sempre sentito come se in qualche modo lui fosse collegato sì ma poi penso che sia un'anima che ha un bel po' di background dietro cioè non sia un'anima proprio giovane in quel senso sì guarda lui è ancora connesso con sai fino ai 6 anni 10 anni si è ancora connessi alcuni dimenticano prima ma lui ha i ricordi vividi di tutto quello che è un bambino molto allegro mi fa un sorriso un sorriso ha una simpatia particolare questo ragazzino sì poi ti deve prendere tutto in giro se non prende in giro non è contento sì è molto sì hai una buona intuizione su di lui ma lui fa parte farà parte di di quelle anime che ti dicevo quei giovanotti che tu incontrerai perché lui non dimenticherà mai questo collegamento che ha con il passato con le sue vite precedenti sarà uno di quei gli esseri umani nuovi che camminano nei due mondi cioè avrà la capacità di mantenere questa percezione dell'invisibile anche nel suo mondo quotidiano è un'anima molto non solo antica ma anche lui molto importante una nuova anima un nuovo modo di essere anima in questa terza dimensione usiamo dire che ha dei poteri ma le sue capacità di interagire con la materia e con lo spirito saranno strabilianti lo potrai vedere lo percepire ecco sì ma se tu lo solliti sai i bambini a 4 anni sicuramente un po' tutti ma lui in un modo particolare se tu gli fai qualche gioco di magia cioè sai quella materia che un momento vedi un momento non vedi lui sarà strabiliato di quello proprio lo lo vedrai assetato perché lui vive in questa particolare situazione ok bene è passata un'ora e mezza sono 11 e 29 quindi va bene caro allora guarda io sotto quella forma che abbiamo lavorato prima di vibrazione e di connessione e di integrità ti lascerei in questa bellissima sfera con doppia protezione che tu hai fatto a mantenerti in quella situazione di rigenerazione che poi tu manterrai io mi disconnetto da tutto e da tutti e ti ringrazio è stata una bellissima esperienza viaggiare insieme a te complimenti per la tua anima e mi inchino al tuo grande compito che hai in questo in questa esistenza grazie grazie anche a te quindi mi disconnetto da tutto e da tutti e torno qua al tempo presente eccomi caspita che bella anima che hai ho mai incontrato un potere così forte complimenti perché un arduo compito però mi sembra proprio che adesso io non ti conosco così tanto da poter ma che ti calza pennello ti senti abbiamo tolto le paure ma hai sentito che c'era del verce tanto di vero sì assolutamente sì era qualcosa che in qualche modo sentivo nel senso che questa se vuoi il fatto anche questa paura forte del male in qualche modo il male mi ha contattato più volte durante il corso perché lo conosci sai che come si dice nelle nostre credenze che sono le chiese i condizionamenti ci parlano del male però uno le lascia sempre un po' lì tu invece è proprio come se lo conoscessi lo conosci come se lo conoscessi ho avuto questo contatto diretto più di una volta ecco infatti quindi ti sei voluto nascondere per un po' in questa vita di Rino però penso che sia un bel compito perché anche quello che facciamo noi che è ipnosi investigazione è sempre come qualche cosa di leggero io sento che ci sento le incontro sai anime possedute e nel quotidiano in realtà tante sai che adesso si dicono queste malattie che sono celebrali come si dice queste malattie che il cavolo si chiama psicosomatiche psicosomatiche io fondamentalmente ho sempre pensato che invece ci siano entità all'interno di queste persone che o per una scorazione della pelle o perché poi hanno detto che insomma c'è questo mondo c'è qualcosa sì sì e ora che se ne parla penso che uno con le capacità come te possa intraprendere un lavoro importante no ma poi ti ripeto la sensazione che ho sempre avuto sono stanco adesso di sentirmi inutile nel senso che io mi sentivo di sopravvivere di andare avanti per inerzia e sinceramente non ce la faccio più sono stanco e siccome so e sento di poter aiutare le persone o voglio farlo cioè è qualcosa che altrimenti non avrebbe senso la vita perché cavolo siamo scesi a fare su sta terra esatto tu infatti sei sceso e sempre fatto questa cosa quindi ce l'hai proprio dentro questo stimolo di fare qualcosa non hai il concetto di una vita inutile perché sei proprio sceso con questo contesto di fare sempre questo aiuto importante e quindi è radicato molto di più di te senti io mi vado a rilassare ti ringrazio caro grazie grazie davvero tanto ci sentiremo ancora per quanto riguarda la pubblicazione se ho visto gli altri video se togli il video mio nel senso che non mi si vede il viso va bene tu adesso guarda sentiti libero ecco è molto bella la tua sessione aiuta ti dico tanti altri se me la fai pubblicare io sono contenta no no ti ripeto ma togliendo io ho visto gli altri i tuoi video dove ti si vedi tu ma non si vede l'altra sì sì sempre per la privacy va bene grazie però va bene e ti contatterò ancora Mary adesso non ti liberi facilmente di me va bene sono contenta sono contenta e poi spero che avrai modo in un certo senso di avere quando ci liberano avrai modo di venirmi a trovare perché a Tellandia è tanto bella e andiamo un pozzettino al mare volentieri grazie a tutti grazie a tutti